Oggi è una giornata importante perché vengono consegnati i locali in cui andremo a realizzare non solo l'Infopoint, che sarà un centro di accoglienza turistica, ma anche il Visitor Bureau, che è una struttura che verrà gestita da Trieste e FWG e dagli albergatori per gestire tutta la parte congressuale, per gestire le guide turistiche. Tassello dopo tassello il Porto Vecchio prende sempre più vita. Continua il progetto per potenziare il servizio turistico a Trieste, ma non solo. Sì, perché il nuovo Infopoint al magazzino 26 servirà per indirizzare i turisti tramite l'offerta che gli verrà presentata nei siti più importanti di tutto il panorama regionale. Tanta la soddisfazione dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi e del sindaco di piazza per un'area che si sta sempre più valorizzando e che potrà dare spinta e linfa vitale a un'economia in ascesa per il capologo Giuliano, che vede orizzonti di crescita sempre più ampi. Soprattutto per confezionare pacchetti turistici, quindi visite non solo a Trieste, ma anche nei dintorni, nella località magari della Slovenia, del Corazio o quant'altro. Quindi è un ultimo tassello 2019 che apre la strada, un percorso che sarà importante per tutta quella che è l'attività culturale, espositiva, ma anche e soprattutto turistica, che si svolgerà nel magazzino 26, nel Palazzo dei Congressi e nel Porto Vecchio in generale.